Hello, Lightwater! Ma guardate che bel titolo del cavolo! Ma io mi chiedo, come fa uno a ricordarsi un film del Geo? Poi si chiedono perché cambiano i titoli? Comunque è un film della Madonna. Molto, molto bello! Otto e mezzo, da vedere, questo è un film da tenere in cassetta, diciamo. Voto otto e mezzo, su Netflix al momento. Molto, molto, molto bello.